C'era una volta, in una casa nel bosco, una bambina che si chiamava Marta. Era bella, con i capelli rossi e molto simpatica. Tutti i giorni andava nel paese a comprare il pane per la sua mamma ed il suo papà. Un bel giorno prese come sempre la moneta d'argento, che il papà le metteva sul tavolo e si incamminò lungo la via. Saltellando qua e là, come una trottola, incontrò tanti amici lungo il percorso. L'uccellino Chip, il cane Tom, la pepparetta gialla Quaquà iniziò a giocare distratta dalle loro storielle. «Ciao, amici miei», disse Marta, dopo un bel po' di tempo. «Mi sono scordata di prendere il pane. Devo correre dal fornaio prima che finisca». Ma quando arrivò al panificio, vide che il piccolo negozio era già chiuso. Fu così che si incamminò sulla via del ritorno piangendo e pensando al brutto rimprovero che avrebbe ricevuto dai suoi genitori. Lungo il cammino incontrò Chip, che vedendola piangere le chiese. «Ciao, amica, ma perché piangi?» Marta in lacrime risposa. «Non ho rispettato il compito che mi ha dato mio papà perché mi sono distratta a giocare con voi. Ora staremo senza pane». Gli uccellino, sentendosi un po' in colpa, andò a chiamare gli altri amici animali, Tom e Quacqua. «Amici, dobbiamo aiutare la nostra piccola amica». E così fecero. Andarono da Marta, seduta sul ciglio della strada singhiozzante, e Tom le disse «Dammi la monetina d'argento, ti aiuteremo noi, aspettaci qui». I tre amici sgattaiolarono nel panificio del paese, posarono la monetina sul tavolo del fornaio e presero una bella pagnotta. «Marta, ecco ti pane e scusaci tanto per averci distratto dal tuo compito». Fu così che Marta tornò a casa felice, ringraziando nel suo cuore di avere amici così speciali. Buonanotte, bimbi belli.